L'aggressione che adesso porterò su ogni punto, la concentrazione e l'aggressione che riesco a dare adesso ad ogni punto. Ok, perfetto. Cos'è che ti è piaciuto della clinica di oggi? Mi è piaciuto come avete trasmesso il lavoro che fate. Quindi la nostra passione? Sì. Ok, perfetto. E un aggettivo per descrivere mental tennis? Efficace. Efficace. Sì. Un'altra domanda, che tra le cose che ti sono piaciute, qual è lo strumento che pensi ti servirà di più? Quello che hai imparato? C'è l'esercizio che abbiamo fatto in cui abbiamo dovuto tirare tutte le palline con la massima potenza, perché è vero che è stato molto liberatorio e non abbiamo usato la mente, ma abbiamo solo giocato il punto. Ok. L'hai potuto mettere in pratica dentro la partita? Sì. Ti risultava che potevi essere, potevi giocare.